La migliaia delle vittime, Ponte Morandi, Rigopiano, che chiedono il blocco della prescrizione per i reati gravi. L'unico imputato è stato prosciotto grazie alla prescrizione, maggio 2018, la prescrizione cancella i reati di incendio, lesioni colpose per i manager tedeschi che dovevano garantire la sicurezza della cisterna, esposo a Diareggio nel 2009 gennaio 2017. Come anche per l'amianto a Torino, una vergogna. Chi ha perso nel hotel Rigopiano? Io ho perso mio fratello, Marco e la fidanzata Jessica, la nostra paura è proprio la prescrizione del reato, qualcuno la fa franca, sicuramente lo sappiamo. Prescrizione per i nati gravi va abolita e non vogliono abolire neanche i 5 Stelle, sono d'accordo, nuova P2, Licio Gelli, Di Maio, Stefano, Di Battista, questi nuovi lobbisti, P2isti, fascisti, Cosperanza, Di Maio, Renzi, Meloni, Salvini, Berlusconi, ex P2ista, nuove P2, una vergogna, un attacco ai diritti dei cittadini, votiamo no al referendum contro l'edizione dei parlamentari, una vergogna, nono a P2, Di Maio, Frattoianni, Speranza, Zingaretti, Salvini, Meloni, Berlusconi, ex Tessa nel 1816, dalla P2.